Per la prima volta che la governance regionale, confindustria, politica, sindacati, tutti in CERCO di remare dalla stessa parte. Credo per avvenire un grande evento tra noi, SEL, di cui mi pregio di essere amministratore, e Acquedotto Lucano, un intervento dinamico, un intervento ancestrale, oserei dire, per andare verso il futuro, creare veramente un vero abbattimento economico della bolletta di Acquedotto Lucano. Come? Semplice. Con un grande impianto fotovoltaico creato da SEL, con i fondi della compensazione ambientale, quindi del gas, quindi fondi fossili, per creare energia pulita con il fotovoltaico e abbattere di circa il 20%, numeri chiari, la bolletta di Acquedotto Lucano. Ridurre di circa 35-40 milioni, con un grande impianto fotovoltaico di circa 100 megawatt, dovrebbe essere tra i più grandi impianti d'Italia, con circa 70 milioni di euro, quindi basta quasi un anno e mezzo di fondi della compensazione ambientale del gas, che potremmo realizzare. Realizzeremo questo grande impianto fotovoltaico nel giro di due anni e mezzo, tre, speriamo prima, se la burocrazia un po' elefantica che fortunatamente si sta abbassando, riusciremo a realizzare magari anche in due anni, due anni e mezzo, con circa 68-70 milioni di euro, comprensivo di acquisto dei terreni. Sono affascinato da questa missione e sono sicuro che ce la faremo.